Per la voce delle associazioni incontriamo Adriano Pizzini che è il presidente provinciale dell'Arcicaccia Bresciana. Siamo in questa bellissima location, Adriano, qui una volta era un roccolo, si catturava e si roccolava, adesso è diventato un capanno di caccia, roccolare adesso non si può più. Allora ci hanno tolto anche questo? Tolgono tutto, bisogna stare attenti di essere più d'accordo tutti per poter fare qualcosa, perché è difficile non più roccolare, molto difficile non più roccolare per gli appassionati del capanno, perché adesso l'appostamento fisso, i richiami vivi, anche i capanni temporanei che usano almeno 10 uccelli, però non lo so la motivazione perché tutto questo sia andato a finire così. Fino al 2011 si è andati avanti mica male con la possibilità di andare in deroga, con il frosone, la peppola, la pispola e tutto quanto. Dal 2011 poi è cambiato tutto e adesso deroga ce ne siamo scordati, le catture dei richiami anche, si è fatto la banca dati per segnare i richiami posseduti, adesso insomma ci stanno facendo terra bruciata intorno. Sì, sì, anche con la banca dati sembra un casino, io ho provato a inserirsi dentro, ma dopo le 4 e mezzo di sera basta, finita la festa della banca dati non si inserisce più, poi se si sbaglia qualcosa è un casino più finito e la gente che va a capanno difficilmente se non ha un nipote o così che è capace di metterci dentro nel computer è un casino, la madonna poveretti smettono da soli, ma io non vorrei che smettessero perché è una tradizione molto bella e gli appassionati di capanno fisso, che sono pochi giovani ma tanti anziani, che purtroppo con tutte quelle leggi che ci sono è un po' brutto anche per loro fare questa specie di caccia. Voi come Arcicaccia avevate perso qualcosa negli anni passati, mi dice adesso state recuperando? Sì, noi negli anni passati abbiamo perso qualcosa, abbiamo perso anche degli iscritti perché non condividiamo forse delle idee, però adesso a livello regionale e nazionale stiamo recuperando, abbiamo recuperato più del 2%, è un bel coso. Un dato che va in controtendenza rispetto ad altre associazioni. Sì, forse avevamo avuto delle idee o abbiamo delle idee un po' più, non lo so, guarda, però tutte le associazioni siamo lì e lì, dovremmo andare d'accordo tutti per poter portare avanti un certo discorso sulla caccia, su quello che è la cinofilia anche, la caccia, la cinofilia, tutto assieme, che qua invece purtroppo ci guardano un po' di scagnesco un po' tutti. Sì, poi io vedo anche che la regione Lombardia, cioè la regione Emilia Romagna hanno fatto delle belle cose, sono uniti, qua purtroppo la regione Lombardia sarà difficile, perché non per colpa di alcuni che la sedia non vogliono andare, ma non per la sedia anche sul fatto di parlare di caccia tutti assieme, di mandare una persona unica a parlare di caccia, qua invece non è una cosa... Ognuno cerca di portare l'acqua al proprio mulino, che non è giusto, ma alla fine si è divisi. Sì, siamo divisi per forza, perché... C'è un momento di unione che sarà il 22 maggio a Gardone Valtrompia, la sfilata dell'orgoglio venatorio, che è una cosa trasversale, non è un'associazione, non è un movimento politico, riunisce tantissime associazioni, riunisce soprattutto i cacciatori di tutte le associazioni. Voi come Arci Caccia ci sarete? Sì, saremo anche noi, per questa manifestazione saremo anche noi per forza, perché è giusto che ci siamo. Ecco, forse se non ci sarò io, saranno i vicepresidenti, abbiamo i due vicepresidenti, saranno anche delle persone, i nostri cacciatori che rappresenteranno. Questo è un momento di aggregazione, forse dovrebbero essere di più i momenti di aggregazione da fare durante l'anno. Sì, sarebbero molto di più, di trovarci più spesso con le altre associazioni, di parlare di caccia, di portare avanti delle idee, purtroppo, sa com'è, non è sempre facile. Adriano, per quanto riguarda invece l'attività dell'Arci Caccia, voi adesso avete tra poco una bella gara cinofila a Bassano Bresciano, al Quagliodromo e poi soprattutto a fine maggio ci sarà per il tiro con Canna Rigata su Almaniva un'altra manifestazione che vi vede protagonisti. Sì, lì a Maniva ha diversi anni che la fanno, è una bella cosa che siamo protagonisti. Trofeo Maniva, c'era quella lì, poi c'era anche a luglio quella dei Segugi e qua a Bassano Bresciano il 22-23 c'è una bella gara senza sparo nel Quagliodromo, una bellissima gara che sono tanti cacciatori che vengono lì, tanti che fanno questa bella manifestazione, ne facciamo due all'anno lì. Abbiamo visto di recente anche a Montichiari questa manifestazione importante dedicata alla cinofilia con l'Enci di Brescia, l'Enci nazionale rappresenta con il proprio Presidente che ha richiamato tantissima gente. Sì, ha richiamato un sacco di gente, anche io faccio parte del gruppo cinofilo con il Consiglio e voglio ringraziare il Presidente e tutti i nostri amici del Consiglio e anche tutta la gente che ha percipato in questo momento perché è stata una manifestazione che non ha storia, è stata una delle più belle manifestazioni con circa 10.000 persone che sono entrate a visitare i cani e non cani, è stata la più bella manifestazione che abbia avuto. Ci sono state tantissime selezioni che abbiamo seguito, le prove di Agility, insomma tanta gente anche della società civile. Sì, anche quelle di Agility sono più sentite anche per i bambini, è una bella cosa, piacciono anche a me a dire l'organità. Piaciono tutti i cani perché anche io faccio parte, però anche quella di Agility è molto bella. A proposito di bambini, tu mi stavi dicendo prima che state organizzando qualcosa con le scuole, quindi a livello didattico farete delle emissioni di selvaggina sul territorio e cercherete di coinvolgere gli alunni delle scuole? Sì, io sto lavorando nelle scuole per poter vedere se qualcuno, qualche ragazzo è più penso di sì. Sul Monte Corno noi abbiamo una bella zona, l'Estramento Cane è molto bella, sul lago di Garda abbiamo questa bella zona e lì porteremo su delle scuole per far vedere il lancio di selvaggina, insomma, guagli, fagiani, quello che c'è da lanciare e daremo in mano a quei bambini lì. Si scontra sempre con una mentalità magari diciamo un po' animalista di certe maestre, di certi insegnanti, però questo è un momento anche per far conoscere ai bambini cos'è la civiltà rurale, che cosa sono gli animali, che cos'è il territorio. Sì, perché tanti bambini non sanno distinguere un pollo da un fagiano o da un uccello, da un uccellino. Sì, gli uccellini li vedono anche loro, ma il pollo non sanno cosa vuol dire magari, ecco. Lo vedono in supermercato. Supermercato o in televisione, quando fanno vedere quei dadi lì che fanno vedere. E questo è una cosa che vorrei fare, tenere proprio, ti tengo a cuore per i bambini da fare questa manifestazione, mi stengo proprio perché dobbiamo entrare anche noi nelle scuole, non solo continuare a sentire delle maestre oppure degli insegnanti che dicono ma la caccia non è, ammazzare l'uccellino che non è vero, tutto questo. Sì, è uno sport che ci costa caro per poche giornate di caccia, ecco. Però è comunque regolato da leggi per il quale si pagano delle tasse. Molte tasse, loro dovrebbero saperlo queste tasse. E in Italia diciamo che l'attività venatoria è quella più regolamentata, con più tanti paletti rispetto a tutto il resto d'Europa. Sì, sì, è vero, questo è verissimo. Noi abbiamo dei paletti fissi proprio che non si può fare questo, non si può fare quello e un cacciatore deve avere la pianina finale perfetta perché se no non gli danno neanche il permesso per poter andare. In Francia abbiamo visto che il Senato ha approvato le catture col vischio respingendo l'attacco degli animalisti, da noi non possiamo catturare i richiami. Neanche con i roccoli, qua neanche con i roccoli. No, qua non possiamo fare niente. Poi ci dicono che dobbiamo passare dall'Europa perché tutto il discorso venatorio si discute in Europa ma alla fine c'è un'Europa di serie A e un'Europa di serie B. E questo è vero, un'Europa di serie A e un'Europa di serie B come hai detto perché noi siamo quelli di serie B perché tutta l'altra Europa non è così. Forse perché non abbiamo rappresentanti politici che ci rappresentano veramente? E' lì un bel problema con i rappresentanti politici, se abbiamo un bel problema ma con tutto, destra, sinistra, tutti, non solo, non rappresentano più la caccia, vogliono i voti dei cacciatori per poter stare lì seduti. Si ricordano dei cacciatori nel momento delle elezioni? Nel momento delle elezioni, poi basta. Poi si dimentica? Vanno tutti in elementatorio quelle cose qua. Anche con lo spiedo? Anche con lo spiedo, si stanno raccogliendo adesso delle firme che ho visto per poter fare ancora lo spiedo che sarà molto molto difficile e io mi auguro che lo spiedo senza uccelli non è uno spiedo. Che praticamente attraverso queste firme si potrà chiedere alla regione di fare delle donazioni ai ristoranti ma non c'è più la possibilità di commercializzare. Esatto, ecco quelle cose qui sarebbero da fare ma stiamo raccogliendo le firme però non si sa quello che succede. Anche qui come Arcicaccia voi siete favorevoli? Sì, sì, siamo favorevoli, sì, favorevolissimi. Bene, allora ricordiamo questi due appuntamenti ravvicinati per quanto riguarda l'Arcicaccia Bresciana, adesso la gara al 22 e il 23? 22 e 23 a Bassano Bresciano e poi con la carabina a fine di maggio su Maniva. Il trofeo Maniva che documenteremo. Io ringrazio Adriano Pizzini, ringrazio Arcicaccia e grazie a voi per averci seguito.